non è stata la madonna della seggiola a suggerirmi questo titolo anche se la tela di raffaello che ritrae la vergine finalmente sedute col piccolo gesù che riposa tra le sue braccia evoca tutta una costellazione di immagini centrate attorno all'archetipo materno che dondola la sua creatura per farla addormentare certo anche maria come tutte le madri ha placato il pianto del suo bambino stringendoselo al petto cullandolo con tenerezza intonando antiche cantilene orientali per farlo dormire e vegliando con ansia sul suo placido sonno la tradizione popolare ha capito così a fondo questa attitudine materna di maria che per natale ha costruito un interminabile repertorio di melodie legate al più primitivo genere musicale la ninna nanna dormi non piangere bel pargoletto viene da pensare che ogni compositore più che dal desiderio di prestare la voce alla madonna per fare acquietare gesù sia stato mosso dal bisogno di prestarle la voce per sentirsi lui stesso cullato tra le sue braccia materne e trovare riposo nel suo grembo a suggerirmi comunque il titolo di donna del riposo non è tanto il figlio che le dorme tra le braccia quanto lo sposo che le dorme accanto sì perché solo accanto a una donna come maria un uomo ad uso alle asprezze della vita come giuseppe può riposare con tanta serenità da sognare ininterrottamente il falegname di nazareth lo sappiamo è l'uomo dei sogni di giorno l'esperienza dura scabra interminabile della bottega popolata di clienti e di problemi di notte l'irruzione scontata serena inesprimibile in un pezzo di cielo popolato di angeli e di presaggi una compensazione procurata gli senza dubbio da maria la quale non paga di alleggerirgli di giorno la stanchezza con le premure della mensa gli favoriva di notte la dolcezza di un riposo che lo introduceva senza fatica in quel mondo sovrumano di cui lei era abituale inquilina chissà quante volte avrà detto a giuseppe come ti senti ti vedo stanco non affaticarti così tanto riposati un poco giuseppe non udiva tanto da quell'orecchio e lei allora interveniva con un supplemento di pace la notte maria donna del riposo dunque perché nessuno come lei sperimentava il sabato del signore ogni volta che cantava il salmo 22 in pascoli di erbe fresche mi fai riposare forse gesù avrà preso da lei questo stile di tenerezza che adoperò poi con gli apostoli quando vedendoli stanchi diceva loro venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po o quando invitava le folle affrante dalla fatica di vivere con queste parole venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò il ristoro santa maria donna del riposo accorcia le nostre notti quando non riusciamo a dormire come dura la notte senza sonno è una pista senza luce su cui atterrano tenebrosi con vogli di ricordi e da cui decollano stormi di incubi che stringono il cuore mettiti accanto a noi quando nonostante i sedativi non ce la facciamo a chiudere occhio e il letto più morbido diventa una tortura e dalla strada i latrati del cane sembrano dar voce ai gemiti dell'universo e dalla torre dell'orologio in intocchi scendono sull'anima come colpi di maglio e i secondi scenditi dal pendolo del corridoio non si sa bene se vogliono farti compagnia o ricordarti l'inarrestabile corsa del tempo o dilatare il supplizio delle ore che non passano mai sorveglia il riposo di chi vive solo allunga nei vecchi i sipari del sonno corti e leggeri come veli di melagrana tonifica il dormiveglia di chi sta in ospedale sotto un pianto di flebo rasserena l'inquietudine notturna di chi si rigiria nel letto sotto un pianto di rimorsi acquieta l'ansia di chi non riposa perché teme il sopraggiungere del giorno rimbocca gli stracci di chi dorme sotto i ponti e riscalde i cartoni con cui la notte i miserabili si riparano dal freddo dei marciapiedi santa maria donna del riposo donaci il gusto della domenica facci riscoprire la gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa a conversare con gli amici senza guardare l'orologio frena le nostre sfibranti tabelle di marcia tienici lontani dall'agitazione di chi è in lotta perenne col tempo liberaci dall'affanno delle cose persuadici che fermarsi sotto la tenda per ripensare la rotta vale molto di più che coprire lavoranti percorsi senza traguardo ma soprattutto facci capire che se il segreto del riposo fisico sta nelle pause settimanali o nelle ferie annuali che ci concediamo il segreto della pace interiore sta nel saper perdere tempo con dio lui ne perde tanto con noi anche tu ne perdi tanto perciò anche se facciamo tardi attendici sempre la sera sull'uscio di casa al termine del nostro andare dissennato e se non troviamo altri guanciali per poggiare il capo offrici la tua spalla su cui placare la nostra stanchezza e dormire finalmente tranquilli